Chi prova bene in appartamento sale sul palco tutto contento, però c'è anche l'altro problema che dice che chi comincia la prova seduto sul divano vuol dire che il pezzo ce va in mano. La città sorta su una delle zone di produzione vinicola più antiche del mondo. E adesso vi faccio sentire il gruppo che cos'è? E' il tempo. Se ci perdiamo un segnale è un'azione sprecata. Esattamente se si ritrova o se con quell'etichetta o se con quello che è. E se non hai quell'appoggio. Noi siamo sempre noi e basta.